Gianni Vincenti e la moglie Antonella Patrucco, che la Procura della Repubblica di Alessandria ha incriminato con giudizio immediato per la strage di Quagnento, la morte dei bigi del fuoco e altri reati ancora, non possono ottenere il giudizio abbreviato che automaticamente riduce di un terzo la pena, perché in base a una legge recente non è più previsto per i reati che prevedono la condanna all'ergastolo. A questo punto i difensori vogliono rivolgersi all'Alta Corte, mi pare, che dichiari l'incostituzionalità del provvedimento. Allora, a questo punto cosa può succedere? Il giudice ritiene che la norma sia costituzionalmente legittima e quindi il processo avrà il suo naturale sbocco il giorno del 4 maggio 2020. Il giudice ritiene invece che la norma sia costituzionalmente illegittima, solleva la questione davanti alla Corte Costituzionale e a questo punto il processo deve necessariamente essere sospeso, non sappiamo quali sono i tempi di questa sospensione, in attesa che la Corte si pronunci e decida se la norma è costituzionalmente legittima o meno. Devo aggiungere però che questa eccezione dei difensori, degli imputati, è un'eccezione che è stata già accolta da altri giudici italiani e quindi la Corte Costituzionale deve già pronunciarsi per altre questioni analoghe che sono state poste sulla stessa norma dell'articolo 438 del Codice del Codice Penale. Quindi si potrebbe allora svolgere regolarmente? Quindi se così fosse, se il giudice non accoglie l'eccezione di costituzionalità o se l'accoglie la Corte si pronuncia sollecitamente e il processo avrà comunque il suo corso. Io credo che in ogni caso i tempi saranno assolutamente contenuti perché, ripeto, la Corte è già stata in qualche modo sollecitata a esprimersi su questa questione e in ogni caso se davvero i difensori riuscissero ad addivenire al giudizio abbreviato sarebbe un giudizio molto più veloce di quello ordinario perché sostanzialmente tutti gli atti del Pubblico Ministero sarebbero acquisiti e il processo si farebbe su quegli atti senza necessità di rinnovare le testimonianze, le perizie, le prove e quindi di svolgere un dibattimento nelle forme ordinarie.